Benvenuti su Ultima Hora News. Nel video di oggi vi sveleremo chi è realmente Brando, il nuovo tronista di Uomini e Donne. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. La nuova stagione di Uomini e Donne ha visto l'ingresso di Brando come tronista, scelto personalmente da Maria De Filippi. Di Brando si sapeva poco, fino a quando non è emerso che ha legami familiari con personaggi noti del mondo dello spettacolo. È nipote di Gianni Efrician, un rinomato direttore d'orchestra, e la sua prozia è Laura Efrician, ex moglie di Gianni Morandi. Brando ha vissuto i suoi primi anni a Miami e ha sperimentato la fine della relazione tra i suoi genitori a 10 anni, un evento che lo ha profondamente segnato. Il ragazzo ha dichiarato, l'assenza totale di un padre mi ha reso più duro e disilluso nei confronti delle persone, con lui ho scoperto cos'è il senso dell'abbandono e anche se oggi il nostro rapporto è un po' migliorato le ferite sono rimaste. Invece, sulla madre ha detto, mia mamma mi è sempre stata vicina, è sempre stata il mio braccio destro. Lei per me è casa. Circolavano voci che Brando avesse mentito alla redazione del programma riguardo una presunta relazione con una ragazza di nome Alice, ma quest'ultima ha chiarito che tra loro c'era solo amicizia. Brando si descrive come coccolone, affidabile e determinato, con un chiaro senso di ciò che vuole e ciò che non vuole in una relazione. Cerca un rapporto onesto e semplice, lontano dall'impossibile, durante la sua esperienza come tronista. Resta da vedere se riuscirà a trovare il vero amore nel dating show di Canale 5, sotto la guida di Queen Mary. E tu cosa ne pensi del nuovo arrivato Brando? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.